Bene, il prossimo è un pezzo di un artista a cui sono legato particolarmente perché ha fatto 300 dischi con canzoni basate solo su un accordo quindi questo è anche un invito per avvicinarsi al blues che è un genere secondo me semplice da suonare basta fare un accordo questo è un mangio di John Nunca The Boogie 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 The Boogie